buongiorno a tutti questo seminario è dedicato dalla dottoressa katia dal bianco che ha svolto una tesi di master sull'argomento alla valutazione delle terapie di tipo psicodinamico nei disturbi dell'alimentazione è un argomento importantissimo e di grande e direi terribile attualità pensate che quando è nata la psicanalisi non esistevano gli psicofarmaci non esistevano altre modalità formalizzate di terapie psicologiche esisteva l'ipnosi esisteva il mesmerismo le terapie morali di un tempo di tipo pedagogico ma non psicoterapie formalizzate cioè con un modello teorico e una metodologia definita ora il tempo è molto cambiato pensate che esistono in italia solo in italia 168 scuole di psicoterapia diverse che sono raggruppate riconosciute tutte dal miur e raggruppate in almeno 25 grossi orientamenti teorici quindi a chi rivolgersi a quale modello per curare una sofferenza psichica e psicosomatica grave importante come per esempio nei disturbi dell'alimentazione di anoressia e bulimia e un muoversi in un labirinto le linee guida ci aiutano poco perché se andiamo a leggerle segnalano sì quanti studi sono stati fatti su un modello su un altro ma non possono dirci che è assolutamente migliore un intervento ed efficace un intervento di un tipo piuttosto che di un altro anche perché gli studi sull'efficacia delle psicoterapie sono estremamente difficili non è come confrontare una molecola attiva un farmaco con un placebo il farmaco è sempre quello il placebo la molecola inerte è sempre quella il terapeuta è il farmaco in gioco nelle psicoterapie non è standardizzabile questa è la prima difficoltà inoltre le cure durano a lungo le variabili che entrano in gioco sono tante i bias che minano la il valore degli studi di efficacia sono moltissimi è un campo estremamente aperto quindi il lavoro di previsione della letteratura in materia di terapia orientamento psicodinamico nel area dei disturbi dell'alimentazione è un contributo prezioso che ci dà un'idea di dello stato dell'arte in questo particolare ambito dottoressa dal bianco allora buongiorno a tutti ehm ringrazio il professor puzzolaro di questa introduzione e mh oggi andremo a parlare in questo webinar proprio della prospettiva teorica psicoanalitica e ehm come viene applicata nel campo dei disturbi alimentari in particolare in adolescenza eh e poi andremo proprio ad approfondire quello che è uno dei modelli teorici della psicoterapia eh psicoanalitica dell'adolescenza che è il modello del minotauro eh la necessità di grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti